Il Poggio degli Olivi Il Poggio degli Olivi Il Poggio degli Olivi Mi sembra di poter dire che abbiamo avuto se non più occasioni o almeno quante loro È stata una partita molto bella credo agonisticamente con due squadre che hanno provato a superarsi E poi diciamo che queste situazioni hanno creato la differenza Come è stato tornato nella sua vecchia casa il Poggio degli Olivi? Va bello, devo dire molto molto bello, ho accolto molto bene da tanti ex miei collaboratori che hanno collaborato con me E se Riuscitti parlava dei suoi tempi all'Angolana? Se proprio, no, l'Arenato Curi-Pescara, non confondiamo, quella era l'Arenato Curi-Pescara E se dovevo perdere una partita meglio con Davide Riuscitti che per me è più che un figlio Con Davide ho vinto tre titoli italiani, con lui capitano e quindi è un ragazzo stupendo Una persona stupenda e sono convinto anche un allenatore in carriera Per quanto riguarda la prima squadra, non so se la segue, secondo lei dove può arrivare il Pescara-Pescara in Serie B? Ma il Pescara in Serie B è costruito per arrivare tra le primissime Ora se in Serie A diretta o attraverso i play-off, questo non lo so Ma nella costruzione ci metto anche lo staff tecnico, quindi Massimo Oddo e Marcello Donatelli Che stanno facendo un lavoro eccellente E oltretutto fanno giocare la squadra così come piace al pubblico di Pescara Presentano sempre una squadra del gioco spumeggiante E' chiaro che questo si presta anche a prestazioni che a momenti che non possono essere sempre massimali Come quello di ieri con il Cesena Ma nel complesso credo che stiano facendo qualcosa di importante In futuro si potrebbe tornare qui a Pescara? Io adesso asco gli altri due anni e mezzo di contratto Devo dire la verità, trovo benissimo una società di persone splendide Che mi fanno lavorare, un gruppo di ragazzi altrettanto splendido E per ora la mattina quando mi sveglio devo pensare a far crescere quel settore Che è ripartito da zero, a far crescere questi ragazzi che sono ammirevoli Per quello che stanno facendo e quindi sono più che preso da questa nuova avventura Chiudiamo con una battuta, meglio il livello a scolano o gli arrosticini? Ma gli arrosticini, gli arrosticini sicuramente Ma indipendentemente dal fatto di essere più o meno pescaresi mi piacciono proprio di più Buongiorno 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 Buongiorno